Nel match valido per la tredicesima giornata del girone F di Serie D, Notaresco e San Benedettese si dividono la posta in pari o pareggiando 1-1. Un gol per tempo con la squadra di Epifani che passa in vantaggio con Speranza, mentre per la squadra di Antonioli il rete De Sena nel secondo tempo. Nel mezzo calcio di rigore sbagliato dallo stesso De Sena. Con questo risultato il Notaresco sale a quota 21 punti in classifica, mentre la San Benedettese sale a quota 12. Con il montaggio di Emiliano Gigliotti andiamo a vedere gli erezi del match. Pronti via e dopo 30 secondi la San Benedettese sfiora il vantaggio con una conclusione da fuori di Ferri Marini che viene alzata in corner da Shiba. Immediata la risposta del Notaresco con un insidioso ticoros di Bellardinelli che viene alzato in corner da Knoflack. La squadra di Epifani gestisce maggiormente il possesso, ma al diciottesimo gli ospiti si fanno vedere nuovamente con una conclusione di Lisi, dai 20 metri, neviata in corner da Shiba. Sugli sviluppi dello stesso, conclusione volante di Vargava, l'estremo difensore di casa, salva con un guizzo. Dal possibile 0-1 al vantaggio del Notaresco, con speranza che sulle sviluppi di un corner insacca di testa con la complicità di Knoflack, 1-0. Al ventinovesimo padroni di casa vicinissimi al raddoppio con Fredrik che è in drenare e calcia col Mancino, trovando la risposta di Knoflack. Poco più tardi Notaresco ancora in proiezione offensiva, Mancino da fuori di pesce che si perde alto di nulla. Ripresa confusa, con tante interruzioni da parte del direttore di gara e gioco che ristagna il centrocampo. La prima emozione della seconda frazione arriva dalla panchina, con un doppio cambio per la San Benedettese, di Domenico Antonio e Svarups al posto di Frullo e Ferri Marini. Al settantesimo possibile svolta del match, con De Siena che viene atterrato in area di rigore, il signor Caxensuola di Legnano assegna il penalty tra le vibrande proteste dei padroni di casa. Sul pallone va lo stesso De Siena, ma Sciba si supera nuovamente pagando il calcio di rigore. La squadra di Antonioli attacca a pieno organico e al minuto 87 trova il pareggio, sempre con De Siena, che sfrutta il cross di Domenico Antonio e da pochi passi in sacca è spaccata, 1-1. Nel finale la squadra di Epifani prova a riportarsi in avanti, ma non accade più nulla. Al Savini, 1-1 tra Notaresco e San Benedettese. Oggi ho fatto i complimenti, abbiamo fatto una grande gara, grande gara di sacrificio. Abbiamo cambiato modulo, non modulo l'abbiamo provato ieri per un attimo perché siamo rimasti senza esterni. Ci siamo adattati perché ho grandi giocatori, ho grandi uomini, hanno capito subito che tipo di partita dobbiamo fare. Credo che il primo tempo, a parte qualche errore nostro in uscita, che loro hanno avuto qualche tiro da fuori aria, abbiamo fatto un grande primo tempo. Il secondo non è che ci siamo abbassati, è col passato il tempo anche il campo è diventato sempre più pesante. Abbiamo avuto delle situazioni di partenza dove potevamo fare meglio e potevamo fare gol. Secondo me è un buon risultato, faccio i complimenti ai ragazzi perché secondo me abbiamo fatto una buona partita contro una buona squadra, perché il Notaresco è un'ottima squadra, però siamo passati in svantaggio in un episodio. Avevamo già avuto due o tre occasioni il primo tempo. Faccio i complimenti al portiere del Notaresco che ha fatto due o tre parate incredibili. Poi nel secondo tempo credo che ci sia stata solo la San Benedettese in campo e abbiamo pareggiato meritatamente dopo aver sbagliato il rigore. Quindi premio lo spirito e la prestazione dei miei ragazzi.